Le ciliegie? Non si trovano, con tutta l'acqua che ha fatto. La verdura c'è stata, la frutta non si può comprare perché ci ha pensato il prato eterno, mandarla all'aria. Troppa acqua, l'ha rovinata? Pane troppo e troppo. Cosa in particolare? Le ciliegie, qualche pesca, poi c'è qualcuno con la coperta e bene o male, qualche cosa ha salvato, ma se no. Quest'anno mi sa che non si mangiano le ciliegie. Ho la fortuna di avere uno zio che ha una pianta, lo andrò a trovare. I prezzi sono sempre dovuti all'abbondanza, se una stagione è piena di roba costa sempre poco, se scarseggia il prezzo è sempre sostenuto. Ha notato un aumento dei prezzi visti gli sbalzi di temperatura dell'ultimo periodo? Tutto, che ha aumentato tutto. La gente che dice quando viene qui a fare la spesa? Le guarda e si accontenta se le due la prende in chilo, le prende mezzo chilo.